Ciao da Apsim! Con Filmora X di Wondershare puoi realizzare video in maniera molto semplice ma dà l'effetto professionale con la massima qualità. La nuovissima funzione di motion tracking ti consente di piazzare il mirino su un oggetto e di applicare degli effetti che seguiranno l'oggetto nel corso dell'azione. Come in Filmora 9, e l'upgrade se hai già una licenza è totalmente gratuito, ci sono la funzione di registrazione schermo, schermo diviso, schermo verde e un sacco di effetti audio e video con delle librerie infinite. Scarica Filmora X di Wondershare dal primo link in descrizione in maniera totalmente gratuita e se vuoi tutti gli effetti e tutto il controllo sul tuo filmato non ti resta che approfittare dello sconto fino al 50%, sempre dal link in descrizione per il Black Friday. Cosa aspetti allora? Scarica Filmora X di Wondershare adesso e comincia a divertirti con i tuoi video della massima qualità. Ciao da Afsim! I problemi attuali della Juventus in termini di prestazioni deludenti e di risultati mancanti hanno radici profonde. Ve ne ho già parlato ma voglio provare a fare quasi una cronistoria, una scansione temporale di quelli che secondo me sono stati tutti gli errori commessi da questa diligenza negli ultimi anni, che hanno portato poi alla situazione attuale in cui abbiamo ancora una squadra assemblata non benissimo, un po' meglio rispetto all'anno scorso ma diciamo non proprio male ma certamente non bene, oltre al fatto che abbiamo forse dei rimpianti per delle scelte sbagliate fatte in passato per giocatori per esempio che sono stati ceduti ma che sarebbero stati ancora utili così come per giocatori che abbiamo avuto e che invece sarebbero stati da mandare via o che abbiamo ancora perché sono stati fatti dei rinnovi che forse non era il caso fare. Insomma è veramente un'osservazione a 360 gradi sulla Juventus di Pirlo ad oggi 30 novembre ma sulla Juventus in generale di Pirlo e non di Pirlo ad oggi 30 novembre 2020 sperando di vedere sempre meno errori in futuro e tutti i miglioramenti possibili che sono potenzialmente nelle corte di questa squadra a livello di organico, tecnico e a livello di vigenziale. Ne parliamo però prima vi chiedo di iscrivervi al canale attivando la campanella delle notifiche per non perdere i prossimi video se siete interessati ai miei contenuti in cui continuerò naturalmente a parlare di Juventus tra campo e tutto quello che c'è intorno. Partiamo da dove? Partiamo proprio da Berlino, partiamo proprio dal 2015, partiamo proprio da Pirlo se vogliamo perché è una cosa che leggo veramente da tutti. Abbiamo smantellato la Juve del 2015 e non siamo più stati gli stessi. Eravamo una Juve bellissima, avevamo un centrocampo fortissimo dopodiché il centrocampo non è stato più rafforzato, non è stato più all'altezza perché quell'anno se ne andarono Pirlo e anche Vidal rimase solo Pogba per poi andarsene l'anno successivo. Io sono d'accordo su questo anche se non sono molto d'accordo sul fatto che si dice adesso che abbiamo un centrocampo che fa schifo e che quindi il problema principale della Juve resta sempre quello. Andiamo infatti ad analizzare che cosa è successo con il centrocampo ma non lo farò con uno zoom sul centrocampo perché ripeto voglio andare cronologicamente e quindi lo farò tra i vari passaggi di questi ultimi 5 anni se proprio vogliamo dirla tutta. E quindi sì, sicuramente un grave errore che è stato fatto negli anni recenti è stato quello di smantellare il centrocampo che per carità ci può stare Pirlo era a fine corsa, Vidal secondo me se ne sarebbe dovuto andare l'anno prima perché c'erano le premesse per mandarlo, poi non fu mandato perché cambiamo allenatore ma lui l'ultimo anno non fu un Vidal brillante ma il problema fu di non sostituire quei centrocampisti, quei giocatori adeguatamente. Cioè noi nell'estate 2015 abbiamo preso Hernanes per dire mi sembra evidente che non c'eravamo, non ci siamo e quindi ci sono stati fatti degli acquisti sbagliati ma soprattutto non si è avuta la volontà di programmare a livello sportivo per ridare a quel centrocampo una qualità adeguata. Sì, siamo andati a prendere Pjanic l'anno dopo pagando la clausola registoria e sapete che sono sempre contrario al pagamento delle clausole così come l'acquisto di giocatori a parametro zero tranne in rari casi perché si tratta di occasioni di mercato si tratta di giocatori che tu prendi perché è facile prenderli ma non li avresti presi se non fosse stato facile prenderli e quindi non stai andando a prendere giocatori che realmente ti servono però Pjanic non è stato certamente in questi anni pur essendo stato un ottimo giocatore per la Juve all'altezza di quelli che erano i componenti del centrocampo del 2015 ma anche l'anno successivo il problema non è stato come per il 2015 non è stato il fatto di mandare via Pirlo e Vidal vendere Pogba perché ci può stare a vendere Pogba soprattutto a quelle cifre sono offerte che non puoi rifiutare lo mandi via incassi i soldi e il problema è stato lì perché prendere i soldi di Pogba per spenderli su Higuain ma mi spiegate che senso ha avuto avessi avuto un centrocampo già forte avresti potuto dire incassi i soldi di Pogba non mi serve sostituirlo perché tanto abbiamo chi abbiamo, chi avevamo, chi c'era Lemina, onestamente non credo con tutto il rispetto oppure Pereira, pure lui con tutto il rispetto chiaramente se vendi Pogba a quelle cifre devi spendere almeno una parte di quei soldi per prendere un altro centrocampista andare a pagare la clausola a Higuain stesso discorso per carità abbiamo preso Pjanic quell'anno ma non possiamo pensare che ci sia stata una coincidenza di cose perché erano tra l'altro giocatori diversi giocatori diversi quindi non è stata fatta un'operazione di programmazione adeguata non è stata fatta una programmazione adeguata e soprattutto la spesa per Higuain si è rivelata assolutamente controproducente una spesa eccessiva, sbagliata che ci ha pesato tantissimo che ha portato poi ad ulteriori errori negli anni successivi ma pure quell'anno non è stato soltanto il problema andare a prendere Higuain è stato, diciamo, forse la squadra era anche per una serie di coincidenze costruita bene nel senso che anche i giocatori presi l'anno prima Dybala, Mandzukic, Kedira, Alexandro si sono trovati ad esprimersi al meglio in quella Juventus 2016-2017 che ricordiamo ancora tutti con gli occhi a cuoricino perché è stata una Juve meravigliosa che ha fatto una grandissima cavalcata in Champions è stato l'anno migliore, diciamo, di questi ultimi anni la stagione migliore, molto probabilmente però è stata, ecco, quella concordanza di fase che si viene a creare di tanto in tanto e che è pure casuale per una questione, diciamo, di grandi numeri ma poi devi essere bravo a dare continuità a quelle situazioni e quindi, per esempio, quel modulo esaltato da prestazioni enormi di giocatori appunto che poi non ne hanno avuto più come Mandzukic cioè quell'anno un giocatore fondamentale fu Mandzukic che si adattò in un ruolo non suo svolgendola alla perfezione ma ne aveva ma Mandzukic ne aveva ma correva, ma giocava poi è andato chiaramente calando quindi devi precostituirti le condizioni per evitare di fermarti a causa del fatto che ti si sono sgonfiate le gomme oppure si è rotto il carburatore cioè devi avere le armi, gli strumenti devi sapere come andare avanti se la macchina si ferma e non siamo stati in grado perché ci siamo andati ad arenare a Cardiff e lì l'altro errore che è la madre di tutti gli errori successivi è stato quello di non mandare via Allegri Allegri era da non esonerare c'era da separarsi c'era da dire Max sei stato grandissimo tre anni meravigliosi due finali di Champions ci hai fatto rivincere anche la Coppa Italia tre scudetti qualche supercoppa italiana va bene così crediamo che tu non possa dare più di questo ci separiamo tu te ne vai in gloria te ne vai in gloria ti ameranno in eterno tutti i tifosi della Juventus nessuno escluso però a questo punto vogliamo ridare anche una scossa per evitare di calare e invece siamo andati a calare Bonucci se ne è andato Daniel Alve se ne è andato va bene però Allegri è rimasto provando a rimettere insieme i pezzi di una Juve che non aveva più però una sua costruzione ecco programmatica ed infatti che cosa è successo siamo andati a prendere a fine agosto Matuidi che per carità è stato un giocatore utilissimo per la Juve ma era comunque un giocatore già anziano e non di grande qualità tecnica per andarlo poi a mettere in un 4-3-3 smantellando quindi il modulo dell'anno precedente e ci può stare ma non per raggiungere a centrocampo un centrocampista di qualità come poteva essere un Pogba o appunto uno di tecnica bensì un recuperapallone un giocatore di rottura non un giocatore di costruzione e quindi abbiamo abbassato la qualità e poi ricorderanno che in quel 4-3-3 2017-2018 iniziale di Allegri il giocatore sacrificato era Di Bala Di Bala non giocava perché doveva giocare perché doveva giocare Matuidi sostanzialmente quello è stato il cambio tattico fatto da Allegri quindi poi tutti una serie di errori a catena con tra l'altro il rinnovo in quegli anni di Barzagli e di Chiellini Barzagli non avrebbe dovuto rinnovare nell'estate 2018 mi pare mi pare palese perché non ne aveva non ne aveva veramente più infatti l'ultimo anno praticamente non si è mai visto così come il ritorno di Bonucci che ora possiamo anche ringraziarlo Bonucci per tanti problemi che ci risolve però non è lungimiranza cioè rinnovare Chiellini richiamare Bonucci richiamare poi Buffon che va bene ci può anche stare perché secondo me non se ne sarebbe mai dovuto andare e come secondo partire non dà fastidio poi anche i rinnovi recenti adesso Bonucci ha un contratto in scadenza nel 2024 ma ci rendiamo conto tra altre tre stagioni oltre a questa e troppo troppo in avanti nel tempo questi sono tutti i problemi di programmazione che sono stati fatti in quegli anni per non parlare poi passando al 2018 sì hai preso Cristiano Ronaldo hai preso Cancelo Cristiano Ronaldo però è stato lui a voler venire alla Juve dobbiamo sempre rimarcarlo perché sennò la Juve non sarebbe stata in grado di prenderlo ma poi non abbiamo dato seguito a questa cosa perché che Juve abbiamo dato a Cristiano Ronaldo il primo anno abbiamo dato una Juve con un Allegri che ormai era finitissimo non ne aveva proprio più quindi siamo andati avanti ad inerzia ed infatti si è visto che Champions abbiamo fatto quell'anno se togliamo Ronaldo è stata una Champions praticamente inesistente pur avendo vinto lo scudetto molto presto perché è stato un anno in cui proprio per una discordanza concordanza di fase non c'erano degli avversari quello è stato diciamo il nostro vantaggio e poi una squadra che non seguiva che non poteva seguire la qualità di Ronaldo Emre Can preso perché ha parametro zero ma non si sapeva se poteva essere utile stessa cosa per quanto riguarda poi i rinnovi ecco il rinnovo di Chedira il rinnovo di Chedira ne stiamo ancora pagando le conseguenze il rinnovo di Manzucic che poi ci ha portato ad una rescissione con minusvalenza sono tutti quanti errori per cui qualcuno dovrebbe anche pagare di cui qualcuno dovrebbe anche rispondere e ci sono poi altre problematiche rispetto invece a giocatori che sono stati mandati via e che adesso rimpiangiamo per esempio Spinazzola io non riesco a guardare la Roma davvero non riesco a guardare la Roma perché ogni volta che guardo la Roma e dico caspita ma Spinazzola ci sarebbe servito Spinazzola ci sarebbe servito ma possiamo rimpiangere Spinazzola significa che non abbiamo praticamente avuto una strategia per prendere un altro giocatore che fosse migliore e ce ne sono di giocatori migliori di Spinazzola con tutto il rispetto per Leonardo che è un giocatore ottimo serio che si impegna tecnicamente ben dotato che tra l'altro abbiamo cresciuto noi pur mandandolo in prestito cioè non solo non abbiamo tenuto Spinazzola ci sarebbe stato utile ma non siamo stati in grado neanche di migliorare e che operazioni abbiamo fatto abbiamo dato Spinazzola a prendere Luca Pellegrini ma voi sapete chi è Luca Pellegrini mai visto letteralmente mai visto l'abbiamo visto mezza volta con la maglia 17 in amichevole poi zero non si sa che fine abbia fatto o meglio l'abbiamo mandato via per due anni e non sappiamo se tornerà mai più e nel frattempo stiamo affrontando una stagione con Frabotta che abbiamo preso dal Bologna non è neanche un giocatore cresciuto nel vivaio quindi anche lì è stata praticamente un'occasione che si è venuta a creare che abbiamo lanciato in prima squadra che lui aveva pochissima esperienza professionistica neanche in Serie C e ci troviamo con un giocatore che probabilmente non è all'altezza della Juve ma senza fare balzi in avanti Ken perché abbiamo dato via Ken? perché Ken non è stato trattenuto? poi giustamente ci lamentiamo che i Holland non vogliono venire alla Juve ma penso che tutti guardino il fatto che la Juve abbia preso Higuain che poi tra l'altro per un anno non siamo riusciti a venderlo ci abbiamo incassato pochi soldi poi ce lo siamo ritrovati poi è rimasto ha fatto un anno che era praticamente finito a livello fisico non ne aveva più pur risultando utile appunto nell'anno di Sarri e poi dobbiamo arrivare a parlare ancora di Sarri appunto l'operazione spinazzola ma anche l'accessione di Cancelo ora il netto di Danilo che l'anno scorso è stato quasi pessimo e quest'anno invece è ottimo lo dobbiamo ringraziare anche per la disponibilità a fare il difensore centrale ma perché ci siamo dovuti privare di Cancelo? solo per fare la plusvalenza? adesso ci manca perché siamo ancora l'anno prossimo dovremmo investire di nuovo sul terzino destro a meno che non decidiamo di promuovere in prima squadra un giovane come Tommaso Barbieri che abbiamo appena preso dal Novara che però di esperienza ne ha pochissima tutti noi speriamo che Tommaso Barbieri possa essere l'Alfonso Davis della Juventus pur non essendo canadese ma ci vuole tempo e non sappiamo se sarà così e non ne possiamo avere certezza Cancelo poteva essere una certezza e invece abbiamo deciso di mandarlo via e quindi questi sono stati gli errori poi di giocatori mandati ma sto facendo una sintesi ce ne sarebbero tanti altri per finire poi ai giocatori invece che abbiamo letteralmente acquistato senza allenatore Ramsey Rabiot e Artur perché Ramsey e Rabiot abbiamo deciso di prenderli prima di decidere di mandare via Allegri Sarri si è trovato con Emre Gianni che è stato preso l'anno prima anche in quel caso solo perché ha parametro zero seguito da un anno teoricamente per Allegri ma si sapeva che comunque con Allegri non poteva durare ancora a lungo e poi con Rabiot e Ramsey che erano stati presi prima che venisse scelto lui Sarri come allenatore e quindi che cosa doveva fare Sarri questa cosa l'abbiamo detto tante volte e obiettivamente la squadra che è stata data a Sarri è stata la peggior squadra che è stata data ad un allenatore della Juve negli ultimi anni rispetto all'allenatore nel senso rispetto alle idee dell'allenatore c'era la maggior discordanza senza contare Artur che è stato preso prima di sapere chi sarebbe stato l'allenatore cioè siamo fortunati adesso che a Pirlo piaccia Artur e più o meno stia carburando e stia giocando ma quando abbiamo ceduto Pjanic per prendere Artur anche il Barcellona ha fatto un'operazione ad occhi chiusi perché anche loro hanno cambiato l'allenatore e l'allenatore Koeman si è trovato con Pjanic e senza Artur ma non l'aveva deciso non che debba decidere l'allenatore ma deve essere la dirigenza a decidere gli acquisti in funzione dell'allenatore e poi dobbiamo fare appunto il discorso ma sul discorso allenatore ci sarebbe veramente troppo tempo da spendere quindi voglio essere sintetico Sarri che cosa l'abbiamo preso a fare? non piaceva a nessuno non piaceva alla dirigenza non piaceva al presidente non è piaciuto ai giocatori a lui non piaceva la Juve ma perché abbiamo dovuto prendere Sarri? al di là dei discorsi Guardiola se tu decidi di esonerare Allegri fai bene perché ripeto se ne doveva essere mandato via nel 2017 a più tardi nel 2018 era già con un anno di ritardo capisco che tu lo tieni in vita perché hai preso Ronaldo e quindi non vuoi stravolgere a livello tecnico ma poi se non hai un'alternativa tienilo cioè io figuratevi se ero per la permanenza di Allegri è da febbraio 2019 che dico che Allegri se ne doveva andare e gli ho fatto forse anche una campagna contro ma da febbraio 2019 e non prima alla luce dei risultati perché si capiva che non se ne poteva più che era veramente alla frutta Allegri ma se non hai un'alternativa non sei costretto a desonerarlo cioè è stato mandato via Allegri per fare cosa? per prendere Sarri a che scopo? per dare un'identità di gioco? ma se non piaceva a nessuno se non c'era feeling con lo spogliatoio se non c'era feeling con la dirigenza poi lo andiamo anche a desonerare dicendogli guarda non è scoccata la scintilla e con chi doveva scoccare la scintilla? lo sapevate che non sarebbe scoccata la scintilla dopodiché prendiamo Pirlo per fare l'allenatore dell'Under 23 mandiamo via Sarri che avevamo già deciso di mandare via e mettiamo Pirlo dall'Under 23 alla prima squadra senza esperienza il tutto con una programmazione rispetto a cosa? cioè qual è il fine della programmazione tecnica della Juventus? qual è stata in questi anni? io veramente non riesco a capire quindi giocatori venduti che potevano restare giocatori acquistati che non avevano senso indebolimento a turno dei vari reparti mancato accompagnamento della crescita tecnica una volta preso Cristiano Ronaldo allenatori cacciati in ritardo o cacciati male allenatori presi senza senso io veramente vedo che le problematiche sono tante sono tante però mi domando anche in tutto questo Allegri ha pagato Sarri ha pagato Pirlo speriamo di no ma nel caso tutto ci fa pensare che pagherà anche i giocatori alcuni pochi hanno pagato perché per esempio alcune cessioni sono dipese anche da certi scarichi di responsabilità su alcuni giocatori e sorvolo indirigenza quando è che qualcuno paga a parte Marotta che è stato mandato via e che diciamo non rimpiangiamo a questo punto spero che non lo rimpiangiamo secondo me qualche assunzione di responsabilità anche indirigenza prima o poi ci dovrebbe essere grazie per la vostra attenzione buon dibattito nei commenti e mettete like al video se vi è piaciuto vi raccomando sempre di rispettare le opinioni di tutti ancora una volta vi chiedo di iscrivervi al canale attivando la campanella delle notifiche per non perdere i prossimi video ci vediamo molto presto e sempre forza Juve grazie a tutti